nel caso della certificazione che abbiamo ottenuto noi ovvero come dispositivo di protezione individuale di prima categoria non è soltanto il tessuto ad essere certificato ma l'intera costruzione del capo facciamo un esempio se tu prendi un tessuto da 20.000 mm di colonna d'acqua assolutamente impermeabile ma non vai a costruire la trappola antiacqua in un certo modo tu puoi dire che hai una giacca fatta con un tessuto certificato ma non che la tua costruzione è certificata si come una moto con tanti componenti certificati però assemblati in onda esattamente invece appunto il valore della certificazione come dispositivo di protezione individuale è proprio quello di andare a certificare la costruzione quindi come vengono fatte le nastrature il fatto che anche il giro del collo per l'appunto sia nastrato perché al di là del fatto che può entrare meccanicamente da sopra tutta la costruzione intorno al collo è uno dei punti deboli assieme al cavallo sul quale magari poi insisti un po di più nella prossima prova perché i punti critici del motociclista sono proprio anche questa zona qui del cavallo e quant'altro